Per un mio amico, un nostro amico, che è morto sei anni fa, ufficialmente per arresto cardiocicolatorio, ufficiosamente mi aveva preso un sacco e mezzo dagli ispiri. Per lui, per Dars, per Carlo, per tutti i compagnetti per la libertà, tutti quelli che sono caduti, tornare gli ispiri a loro e dedicarle a questa canzone senza nome. Per ISE Grazie per la visione! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti